Noi andremo avanti, oggi si evince anche che c'è compattezza per quanto riguarda l'opposizione, per quanto riguarda i partiti di centrodestra, si evince oggi con questa conferenza stampa. Noi esistiamo, vigiliamo sugli atti amministrativi, come in questo caso. La cosa che meraviglia è che questa commissione è stata bocciata anche da due esponenti importanti di questa amministrazione, da due partiti come quello del PD, che è il 5 Stelle, che sappiamo tutti a livello nazionale, a livello regionale. È un vanto in loro quella di partecipazione, di trasparenza e poi vediamo che qui a Teramo invece questo non esiste. Io dico che non c'è nulla da temere perché non farla. Noi ribadiamo il concetto, poi questo è un regolamento approvato e fatto dal primo Alberto. Non si evince perché si scappa da alcune domande che noi poniamo legittimamente in base a una sentenza, quella del Tar.